8 luglio, la prima tappa di 8 concerti, di 6 concerti. Il mio appello è esserci, il mio appello è incominciare a godere di questa stagione di concerti che abbiamo proposto al comune di Lentini. Palazzo Beneventare è una cornice strepitosa, il primo concerto è di altissimo livello, vi invito ad esserci. Anche io vi invito ad esserci perché l'estate non si può passare in casa e quindi stare al fresco in una cornice spettacolare come Palazzo Beneventano è una coppia di musicisti da stelle, lo possiamo dire, quindi vi aspettiamo in tanti. Non solo classica, io e Davide sosteniamo questo cartellone.